da società di servizio agenzia vera e propria di sviluppo e questo il futuro di sviluppo toscana così come discusso e approvato nel corso dell'ultima seduta del consiglio regionale. In aula arriva la proposta di legge potenziamento dell'intervento regionale a sostegno dell'economia toscana attuato tramite la società sviluppo toscana. Ad illustrare l'atto la presidente della commissione sviluppo economico Ilaria Bugetti. Sì abbiamo ieri licenziato e approvato questa norma che crea di fatto un'agenzia di sviluppo per la Toscana. Il sviluppo toscana diventa l'agenzia che si occuperà di tutta la parte imprenditoriale e anche molto altro. Diventa uno strumento operativo, uno strumento esecutivo che vuol stare a fianco alle imprese e quindi riguarderà indirettamente anche tutto il collegamento con Sici, con Fidi Toscana e facciamo in qualche modo una rete di tutti gli strumenti che la regione toscana ha messo appunto per affiancare il delicato momento anche della fase economica che stiamo vivendo. Quindi ci aspettiamo che sia uno strumento flessibile e che possa essere messo a fianco delle imprese e che va dunque a lanciare la Toscana nel panorama non solo nazionale ma soprattutto internazionale, quindi cogliendo anche quelle sfide di mercato che è cambiato molto in questi momenti e che necessita da parte della regione di avere uno strumento che sappia affiancare le aziende per cogliere tutte le opportunità. La legge passa con i voti della maggioranza, Partito Democratico e Italia Viva. Toscana aveva bisogno e necessità di un soggetto economico forte che facesse da volano di risorse per la nostra regione. Il futuro della Toscana passa dagli investimenti per le imprese, per gli enti locali, per le aziende sanitari, processi di innovazione che non possono non intercettare grandi fondi comunitari, quelli del PNRR, fondi nazionali e credo che noi abbiamo fatto una scelta di coraggio che va in una logica riformista che da sempre abbiamo sostenuto. Un dibattito particolarmente lungo, interrotto più volte e terminato solo nel cuore della notte, anche per via dello struzionismo portato avanti dai consiglieri di centrodestra. Noi siamo partiti all'inizio di questa legislatura con la proposta di Gianni di portare in house Fili Toscana. La regione Toscana è proprietaria del 50% di Fili Toscana, quindi la proposta del PD era compriamo dalle banche anche il restante 50% per poter avere una società che può fare credito e che sostenga il nostro tessuto imprenditoriale. Siamo arrivati al punto esattamente opposto, una sorta di salto mortale dal trampolino carpiato, dove anziché comprare il 50% che non avevamo, la regione Toscana ha messo in vendita il 50% che ha per poter provare a fare con sviluppo Toscana ciò che avrebbe voluto fare con Fili Toscana. In realtà è un pastrocchio assoluto, aggravato dal fatto che sviluppo Toscana anziché avere un amministratore unico come aveva fino ad ora, avrà con la nuova legge approvata un consiglio di amministrazione nominato per intero dalla giunta che costerà più soldi. Di fatto la regione Toscana rimarrà senza un soggetto che possa fare credito, che possa sostenere le imprese e le attività produttive toscane, anche e soprattutto in virtù del fatto che in Toscana non ci sono più le banche e che quindi le banche chi dà soldi all'impresa a testa e gambe in altre regioni o addirittura in altri stati e questa soluzione non è una soluzione definitiva. Per la Lega inoltre la discussione in aula non è stata adeguata. Una legge presentata dalla giunta a luglio, ferma nei cassetti della prima e della seconda commissione fino a pochissimi giorni fa, non attenzionata dalle commissioni, non discussa, non condivisa, arriva alla fine dell'anno, quindi ferma per più di sei mesi. Una posizione solitamente contraria per quella che è la visione oggi di sviluppo toscana, non sappiamo quale sarà la fine di Fidi e già pensiamo a una nuova società in house. Anche qui mancata programmazione. Il presidente Gianni in campagna elettorale aveva annunciato che Fidi diventasse la società in house per eccellenza della regione toscana, oggi ci troviamo affinché le quote di Fidi vengano vendute. Sviluppo toscana dovrebbe diventare la nuova società in house di regione toscana con un CDA totalmente nominato, quindi un consiglio di amministrazione che è sempre competenza del consiglio regionale, nominato direttamente dal presidente, quindi non ci sarà nemmeno una possibilità di controllo da parte delle opposizioni in questa nuova società che dovrà nascere. Una mission che ancora non è chiara, non sappiamo cosa succederà del disisci, quindi tutto un iter che ha portato alla non approvazione, la non condivisione di questa proposta di legge che mette appunto in identifica come oggi la giunta regionale anche su questo stia lavorando. Nel caos senza condivisione degli atti né con l'opposizione ma da quello che abbiamo ascoltato nemmeno in larga maggioranza. Restano molte criticità, dice il gruppo misto. Anche e soprattutto il ruolo e comunque il contemperamento diciamo tra la sopravvivenza di Fidi Toscana e ciò che invece si vuole creare con questa agenzia di sviluppo. Vedremo se col tempo si riuscirà a chiarire ciò che intende la giunta per braccio operativo del sistema economico regionale. Ciò che è certo è che oggi in questa fase storica ci ritroviamo senza quello che dovrebbe essere stato invece uno strumento che doveva già essere pronto per sostenere soprattutto le amministrazioni locali in questa fase così delicata. Ma non solo le amministrazioni locali, aggiungo più in generale anche le imprese che oggi sono trovate in estrema difficoltà e aggiungo anche le famiglie che oggi con il caro energia naturalmente si sono trovate a dover far fronte a costi totalmente inaspettati se pensiamo anche all'inflazione. Un no al progetto di riforma delle agenzie di sviluppo della Toscana arriva anche dal Movimento 5 Stelle. Io credo che con questa legge si capisca ancora più chiaramente quanto il presidente Gianni stia cercando di accentrare le risorse e il controllo su queste risorse nelle mani della giunta. Innanzitutto potenziando sviluppo Toscana il che potrebbe anche essere una cosa favorevole se nel frattempo non si danneggiasse invece Fidi Toscana che da essere un soggetto importante per la regione adesso è in fase di smembramento e cessione praticamente. Questo da tempo nonostante nel programma del presidente ci fosse ben altro tre anni fa. e innanzitutto poi la creazione di questo CdA ci sono dei passaggi di possibili legittimità un CdA nominato interamente dalla giunta quando tutti sanno invece che alcune nomine vengono fatte anche dal Consiglio regionale e anche dalle opposizioni. Si chiude l'anno anche per il Consiglio regionale della Toscana. La prima seduta del 2023 a metà gennaio. Tempo di bilanci per i gruppi consigliari e anche di propositi per il nuovo anno. Partiamo dalle cose fatte dice il capogruppo del PD, la riforma della sanità, gli stati generali della cultura per affrontare il 2023 con l'obiettivo prioritario, il piano di sviluppo. Il piano che farà da cornice a tutte le politiche, a tutte le scelte, a tutte le strategie che il governo regionale dovrà portare avanti. Quindi il piano regionale di sviluppo sta arrivando in Consiglio. Noi abbiamo anche anticipato come gruppo alcuni incontri sui territori per iniziare a raccogliere anche da questo punto di vista delle indicazioni. Ci sono importanti investimenti che dovranno proseguire o che potranno iniziare. La Darsena Europa, il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca, la viabilità regionale. Ho visto che stanno arrivando i treni che fanno parte del contratto che da assessore avevo anche siglato con Trenitalia. Quindi il futuro della Toscana anche nel 2023 vedrà il nostro impegno per quanto riguarda le politiche sociali, le politiche del lavoro, per quanto riguarda la salute dei toscani e per quanto riguarda un sostegno all'economia. Quindi anche attraverso tutta una serie di interventi e di bandi che verranno pubblicati per quanto riguarda il sostegno alle nostre imprese. Tema che sta a cuore anche a Italia Viva che vuole dal prossimo anno anche la definizione del piano regionale dei rifiuti. Per il 2023 un impegno importante a fare delle scelte importanti per la Toscana. Penso sul piano regionale di sviluppo che deve vedere i territori protagonisti e un piano dei rifiuti, soprattutto l'assunzione di responsabilità importanti, decisioni che mancano da troppi anni in Toscana. A margine di queste due grandi decisioni che ci vedranno impegnate a mio avviso nei prossimi tre mesi, dobbiamo definire come allocare le risorse comunitarie dei prossimi sette anni. Queste risorse comunitarie devono essere allocate a favore di quei territori che meno di altri hanno beneficiato delle risorse del PNRR. Questo elemento a nostro avviso è fondamentale e proviamo a farlo nei primi mesi dell'anno. Dalla sanità alle infrastrutture bisogna invertire la rotta, dicono gli esponenti di Fratelli d'Italia e Lega. Il buon proposito è uno, è quello di riportare la Toscana dove merita di stare. La Toscana è la regione che storicamente tutti individuano come il faro della sanità nazionale e oggi non è più un faro ma anzi sta tra le peggiori d'Italia. Non è più la regione guida o tra le regioni guida nel campo delle infrastrutture, anzi un tempo si diceva che da un punto di vista infrastrutturale la regione toscana era una delle grandi regioni del nord. Oggi la regione Toscana da un punto di vista strutturale è una delle regioni del sud in difficoltà perché basti pensare ai collegamenti tra Firenze e Grosseto. Una persona di Grosseto fa prima di andare a Roma che non arrivare nel proprio capoluogo di regione, non esiste un collegamento. Non esiste un collegamento che non sia una superstrada obsoleta, drammatica, in perenne stato di caos come la Firenze-Pisa-Livorno che collega il capoluogo di regione con il principale aeroporto della regione, l'aeroporto di Pisa e il principale porto della regione che è il porto di Livorno. Non esiste un'altra regione d'Italia degna di tale nome che vuole ambire ad essere una regione che faccia da punto di riferimento che non riesca a collegare il proprio capoluogo, una città importante come Firenze conosciuta in tutto il mondo e apprezzata in tutto il mondo con l'aeroporto e il porto. Non esiste. In Toscana siamo in questa situazione, abbiamo un gap incredibile che pagano i residenti di alcune zone, ci sono ancora tantissime zone della Toscana che non hanno neppure una copertura con la rete, non sono ancora connessi digitalmente. Sicuramente gli obiettivi sono quelli di sollecitare la Giunta per quanto riguarda il nuovo piano dei rifiuti, per quanto riguarda l'attenzione massima a tutte le crisi aziendali che in questo momento abbiamo anche in Toscana, l'attenzione ai contributi che dovremmo dare ai comuni, che dovremmo dare alle associazioni del terzo settore dopo questa crisi energetica che stiamo attraversando. Un'attenzione per quanto riguarda la nascita di questa nuova sviluppo toscana su cui ancora oggi abbiamo e nutriamo una serie di forti dubbi e poi saranno sicuramente propositivi in collaborazione con tutte le commissioni per il bene di tutti i toscani, però ripetendo che ancora oggi aspettiamo il piano regionale di sviluppo e quindi quasi a due anni e mezzo di mandato non sappiamo quale siano le linee strategiche e di mandato di questa Giunta. Per il portavoce dell'opposizione poi centrale deve essere il tema della sanità. Dobbiamo superare le difficoltà dei cittadini toscani nella prenotazione delle visite sulle liste d'attesa, dobbiamo garantire anche la possibilità all'interno dei centri privati di poter svolgere le visite convenzionate e quindi garantire un plafond per le visite convenzionate nei centri privati sanitari. Dobbiamo lavorare affinché i nostri medici e infermieri possano essere gratificati di più e anche economicamente per quello che fanno. Sanità ma anche temi ambientali, sottolinea il Movimento 5 Stelle. Con un'attenta attività di monitoraggio e ispettiva ciò che fa la Giunta, continuare a dire ai cittadini tutto ciò che non va e fargli capire che sono attori partecipi della politica, che devono ancora più diventarlo. Il Movimento 5 Stelle si strutturerà sempre di più sui territori e lo farà in questo momento parlando di alcuni argomenti che stanno a cuore delle persone. Le comunità energetiche, uno strumento eccellente per superare l'attuale crisi amministrativa. La questione della sanità appunto, dobbiamo riportare la sanità vicino ai cittadini e la scuola, la cultura, l'istruzione che deve finalmente ritornare a essere una parte centrale anche della nostra attività. Tempo di bilanci e nuovi propositi anche per la Commissione Europa del Consiglio regionale. Avvicinare la Toscana sempre di più all'Europa e viceversa, dice il Presidente Francesco Gazzetti. Far conoscere ancora di più e diffondere quali sono i valori e soprattutto le opportunità che per il territorio toscano la connessione con le istituzioni europee può rappresentare. Abbiamo in questo ultimo anno lavorato molto sulle questioni della giornata dell'Europa che per noi non si esaurisce soltanto a una data ma come avete visto si è articolata con moltissimi appuntamenti tra i quali spicca anche il premio di laurea intitolato a Davide Sassoli che tra l'altro nei primi giorni di gennaio vedrà lo svolgimento della premiazione con l'assegnazione dei tre riconoscimenti che una commissione composta da docenti universitari ha individuato e selezionato. Abbiamo molti progetti e molte cose in cantiere e cercheremo ovviamente di raggiungere l'obiettivo di fondo che è quello di avvicinare ancora di più la Toscana all'Europa e l'Europa alla Toscana. Tra l'altro questo si traduce non soltanto con elementi di auspicio ma anche con grande concretezza perché analizzando il bilancio si vede che ovviamente le disponibilità che arrivano dai fondi europei sono aumentate e sappiamo bene quanto siano strategici e fondamentali anche per le dinamiche e le prospettive per metterli a terra attraverso progetti che la Giunta e ovviamente ascoltando anche il Consiglio saprà attuare nei mesi che verranno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.